Open Day all'Istituto Marconi di Giuliano. La scuola ha presentato ai futuri studenti tutta la sua proposta formativa. È un istituto professionale ma che ha aperto anche delle sezioni di indirizzo tecnico. L'indirizzo portante di questa scuola è l'indirizzo moda, però ne abbiamo anche altri indirizzi che hanno una grande rispondenza sul territorio come gli audiovisivi, i meccanici, gli elettrici e gli elettronici. Oltre che questo istituto tecnico che è la grafica e il CAT che sarebbe l'ex geometra. Ridurre la dispersione scolastica è la mission dell'istituto. Allora la nostra mission scolastica è quella di innanzitutto ridurre la dispersione scolastica e già ci stiamo riuscendo con misure di incoraggiamento a questi ragazzi che non sono molto seguite dalle famiglie e non hanno molta voglia di studiare. La scuola è sempre alla ricerca di stakeholder sul territorio, monitora le aziende così da formare futuri lavoratori in base alle esigenze del mercato. E poi la nostra mission fondamentale è quella di aumentare e migliorare l'occupabilità posto e diploma. Infatti molti docenti stanno individuando i cosiddetti stakeholder del territorio. Curviamo la nostra programmazione e di conseguenza i ragazzi si trovano formati e facilmente inseribili nel mondo del lavoro. Una scuola che raccoglie diversi indirizzi e prepara i giovani al mondo del lavoro con progetti e attività. Gli studenti hanno la possibilità di partecipare a progetti Erasmus e viaggiare nel mondo. Quest'anno sono partiti, credo, un centinaio di ragazzi che sono andati nel mondo a fare l'Erasmus. La cosa bella che abbiamo realizzato quest'anno è che anche i ragazzi del serale e anche un gruppo di ragazzi che già si sono diplomati. Infatti i nostri ragazzi per favorire il Made in Italy sono andati, accompagnati ovviamente dal dirigente, da me e dai docenti, sono andati a Mosca e hanno fatto parte del MIT di Mosca e soprattutto nell'ultimo mese siamo stati a Pechino per uno scambio Italia-Cina. Ci siamo inserite nel sinodo Italia-Cina della regione Campania e quindi abbiamo incontrato altrettanto quattro scuole cinesi per dei workshop e degli scambi culturali molto importanti. abbiamo creato le basi per future collaborazioni.